Piena fiducia a Gian Paoletti, mi permetto di notare un'altra cosa. Sono contenta che finalmente la magistratura faccia chiarezza su questi limiti che risalano a circa dieci anni fa. Come sapete noi stiamo facendo un'azione di pulizia nei vari bilanci, ma non si sottrae a questa azione perché la pulizia e la chiarezza nei conti è la base per poter costruire su solide fondamenta. Mi sarei aspettata pieno sostegno da parte dei limiti e comunque ricordo esattamente come per la storia del Rocchetto di Michel che come sapete abbiamo trovato e abbiamo poi tolto dal nostro bilancio perché era sostanzialmente un pacco. Così stiamo continuando ad andare avanti e stiamo trovando purtroppo tanti altri Rocchetti di Michel.